Il Consiglio regionale, in collaborazione con Ajace, promuove la rassegna cinematografica Ciac Piemonte, la commedia all'italiana, realizzata e dedicata ad alcune pellicole girate in Piemonte dai primi anni del cinema sonoro fino ad oggi. A giugno sono previste tre serate di proiezioni a Palazzo Lascaris, il 20 dopo Mezzanotte di Davide Ferrario, il 21 Santa Maradona di Marco Ponti e il 27 il giorno in più di Massimo Venier e successivamente il prossimo autunno per le scuole, una per ogni provincia piemontese. L'ingresso alle proiezioni è gratuito e fino a esaurimento dei posti disponibili.